Essendo entrambi scienziati, io vi chiedo subito come prima cosa appunto un numero. Che numero di piede ha? 40. 42. La sua scoperta più importante? Le caratteristiche di Epsilon Auriga. L'antemateria. Voto di laurea? 101. 110, insomma, voto di laurea in massimo. E il suo libro preferito? No, il libro. Ma ce n'è tanto, come fuori, direi, si zazzacca. Ho letto tutto Galilei e continuo a leggere Galilei. L'ultimo letto allora? Le rose d'Atacama. Nessuno, eccetto che Galilei. E invece l'ultimo film visto? La stanza del figlio. Non vedo film da quando è morto il mio grande amico Federico Fellini. Dovevamo fare un film insieme. Lo scienziato italiano più bello? Sto pensandoci perché... Ne ho tante che non posso citarne nessuno. Eh, Selvelli, giusto, è un bel ragazzo. Microscopio elettronico o telescopio spaziale? Qual è lo strumento ideale per svelare i segreti dell'universo? Telescopio spaziale. La macchina al CERN LHC. Ci crede nella teoria delle stringhe? No. Io sono un grande sostenitore della teoria delle stringhe perché grazie a questa teoria abbiamo capito un sacco di cose dal punto di vista concettuale, non dal punto di vista sperimentale. E in Dio ci crede? No, è certo, se no non sarei qui. Un aggettivo che le viene in mente pensando a Charles Darwin? Una grande scoperta. L'evoluzionismo non è scienza galileana perché manca di una struttura matematica e della verifica sperimentale. Qual è la sua banda preferita di tutto lo spettro elettromagnetico? Tutto lo spettro elettromagnetico, non ho bande preferite. Beh, ho lavorato tanto l'ultravioletto. Senta, il luogo ideale per trascorrere le vacanze? Sono le spiagge del più bel mare del mondo che ha San Vito. Io le vacanze le faccio a Topolini, a Barcola. Lettere, email o cellulare? Qual è il suo mezzo preferito per comunicare? Per comunicare io preferisco le lettere scritte a mano. Tanto più comodo fare un email che cominciare a scrivere, mettere nella busta, scrivere l'indirizzo, a più c'è il franco bollo. Segno zodiacale? E chi lo sa, quello del gatto. Ecco, i segni zodiacali non esistono. Sono pura illusione ottica. Non esistono le costellazioni. Senta, la scienza è più di destra o più di sinistra? La scienza non dovrebbe essere né di destra né di sinistra. La scienza è al di sopra delle parti. La religione? La religione è la forma più bella per dare all'uomo il senso della sua esistenza. Altrimenti non ne ha. La religione è sempre stata ai destri. Lei personalmente si sente di più una scimmia evoluta o un angelo caduto? Preferisco non essere una scimmia evoluta, ma non vorrei nemmeno essere un angelo caduto. Una scimmia evoluta. E nemmeno tanto evoluta. Eu mi un'ungere. Grazie a tutti